è arrivata l'estate e quindi tempo di passeggiate all'aria aperta sole vento e bagno in mare per chi può un concentrato di benessere per corpo e mente un po meno per la pelle infatti l'esposizione al sole e agli agenti atmosferici può causare danni alla nostra epidermide rendendola secca screpolata e soggetta a rughe precoci o a problemi ben più importanti possiamo aiutare l'epidermide a essere più sana protetta e bella anche con l'alimentazione la risposta è sì abbondando con cibi che contengono antiossidanti bene oggi parleremo proprio di questo e in fondo al video ti dirò quali sono i 5 alimenti che non devono mancare dalla tua tavola per proteggere al meglio la tua pelle e quindi sigla gli antiossidanti sono dei nutrienti potenti che agiscono come veri e propri scudi contro i radicali liberi che sono i principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo quindi prepariamoci a scoprire come trasformare la nostra dieta estiva in un alleato per la bellezza della nostra pelle partiamo proprio dagli antiossidanti i guardiani della pelle gli antiossidanti sono elementi magici che conferiscono colore a frutta e verdura le antocianine che danno il colore blu e violetto ai mirtilli le clorofille che danno il verde scuro ad esempio agli spinaci i carotenoidi che rendono arancioni le albicocche ogni pianta i suoi antiossidanti e il nostro organismo ama piccole quantità di una grande varietà di antiossidanti e non grandi quantità di pochi in pratica ogni volta che mettiamo nel piatto una combinazione di colori stiamo fornendo la nostra pelle una vasta gamma di strumenti per combattere l'invecchiamento gli antiossidanti non solo neutralizzano i radicali liberi ma stimolano anche la rigenerazione cellulare e migliorano l'elasticità della nostra pelle quindi più variazione c'è nella nostra alimentazione maggiore sarà la nostra difesa contro rughe e segni del tempo parliamo quindi della dieta degli antiossidanti mangiare una varietà ricca di frutta e verdura colorata è il modo migliore per fare il pieno di antiossidanti gli integratori possono essere utili ma non reggono il paragone con una dieta varia e bilanciata ogni colore di frutta e verdura rappresenta un tipo diverso di antiossidante e consumare una gamma completa garantisce che il nostro corpo riceva tutti i nutrienti di cui ha bisogno per mantenere la pelle giovane e sana come ti avevo promesso veniamo ora ai 5 alimenti che non devono mancare nella tua dieta per poter proteggere non solo la salute del tuo corpo ma proprio della tua pelle assicurati di includere nei tuoi pasti 1 i peperoni rossi sono ricchi di vitamina c e beta carotene essenziali per la produzione di collagene e per la protezione da danni del sole 2 le uova ottime fonti di luteina zeaxantina antiossidanti che proteggono la vista e migliorano la salute della pelle 3 frutti di bosco mirtilli lamponi e fragole sono vere miniere di antocianine che riducono l'infiammazione e proteggono le cellule della pelle da danni ossidativi 4 verdure a foglia verde spinaci e cavolo nero per una dose di clorofilla che disintossica il corpo e migliora la circolazione sanguigna fondamentale per una pelle luminosa 5 il collagene l'amico della pelle per antonomasia il collagene che è una proteina che aiuta a mantenere la pelle tonica e elastica è presente nelle parti gelatinose della carne o del pesce ma anche in forma di integratore tuttavia il modo migliore per rimpolpare il collagene della pelle è attraverso una dieta equilibrata preferibilmente seguendo la dieta mediterranea povera con il 50 per cento delle proteine di origine vegetale questa dieta non solo fornisce tutti i nutrienti necessari per la produzione di collagene ma anche ricca di antiossidanti che proteggono il collagene esistente dalla degradazione inoltre le proteine vegetali sono spesso accompagnate da fibre vitamine e minerali che migliorano la salute generale della pelle quindi integrando nella nostra dieta legumi semi e frutta secca possiamo anche supportare la nostra pelle dall'interno verso l'esterno allora se ti sta piacendo questo video metti un bel like e mi raccomando se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale perché rimarrai aggiornato su nuovi contenuti e ci darai una grande mano nel nostro lavoro quotidiano di divulgazione scientifica in parole semplici parliamo ora invece delle bevande ricche di antiossidanti in estate mantenersi idratate è fondamentale oltre all'acqua puoi optare per bevande arricchite di antiossidanti come ad esempio tè verde infusi di erbe ma anche il caffè queste bevande non solo aiutano a mantenere l'idratazione ma offrano anche una buona dose di antiossidanti il tè verde ad esempio contiene catechine potenti antiossidanti che proteggono le cellule della pelle da danni dai raggi ultravioletti e migliorano l'elasticità cutanea gli infusi di erbe invece come la camomilla e la menta possono avere proprietà lenitive e antinfiammatorie aiutando a ridurre arrossamenti e irritazioni anche il caffè con i suoi polifenoli può contribuire a combattere radicali liberi parliamo ora invece dell'abbronzatura e dei carotenoidi i carotenoidi presenti in carote pomodori melone e anguria possono creare uno strato protettivo sulla pelle e migliorare l'aspetto dell'abbronzatura rendendola più dorata tuttavia non sostituiscono la protezione solare che resta l'unica vera difesa contro i raggi ultravioletti i carotenoidi agiscono come una sorta di scudo naturale che riflette una parte dei raggi solari ma non sono sufficienti a prevenire scottature o danni più profondi per una protezione completa è fondamentale applicare una crema solare con fattore di protezione adeguato al proprio tipo di pelle fototipo e all'intensità dell'esposizione inoltre una dieta ricca di carotenoidi aiuta a mantenere la tua pelle idratata e a ridurre i danni ossidativi causati dal sole ma non deve mai essere considerata come una sostituta delle buone pratiche di protezione solare gli antiossidanti sono spesso nominati come fattori antietà combattono i radicali liberi dell'ossigeno che in piccole quantità possono essere utili ma quando la loro produzione aumenta notevolmente come succede ad esempio con l'avanzare degli anni ci rendono più esposti alla riduzione della riserva funzionale degli organi vitali gli antiossidanti contrastano i radicali liberi rallentando i processi di invecchiamento della pelle migliorando l'apporto di sangue del microcircolo e mantenendo le fibre di collagene più elastiche e idratate i radicali liberi non solo danneggiano le cellule della pelle ma compromettono anche la sua capacità di ripararsi e di rigenerarsi un'alimentazione ricca di antiossidanti quindi può aiutare a preservare la salute della pelle rendendola più resistente agli stress ambientali e più luminosa inoltre alcuni antiossidanti come ad esempio la vitamina C e la vitamina E lavorano sinergicamente per riparare i danni cutanei e promuovere la produzione di collagene essenziale per una pelle giovane e tonica arriviamo quindi alle conclusioni e riassumiamo l'estate è il momento perfetto per godere dei benefici di una dieta ricca di antiossidanti non solo aiuterai la tua pelle a combattere l'invecchiamento e le rughe ma ti sentirai anche più energico e in forma quindi colora i tuoi piatti con una varietà di frutta e verdura idratati con bevande salutari e non dimenticare mai di applicare la protezione solare con questi semplici accorgimenti potrai goderti l'estate al massimo proteggendo la tua pelle e mantenendola splendida e sana ricorda che una pelle sana è il riflesso di una buona alimentazione e di un sano stile di vita soprattutto equilibrato quindi preparati a brillare sotto il solestivo in salute e in pieno benessere ciao alla prossima